originaria di Alvignano in provincia di Caserta. Inizia gli studi di danza classica e moderna a San Gennaro Vesuviano, N.A. Si diploma nel 1994, con il ruolo di Teresina nel balletto Napoli di August Bournonville presso il Teatro Bellini di Napoli. Durante gli studi con il centro partecipa a vari concorsi nazionali e internazionali di danza. Come solista vince il terzo premio al concorso di Genzano di Roma ed è finalista a Rieti nella settimana internazionale della danza. Nel 1996 inizia a lavorare in televisione, sia sui canali Rai sia Mediaset. Come ballerina in diversi programmi, come Fantastica Italiana, 1997, Carramba. Che sorpresa, 1998, Beato tra le donne, 1999, Domenica, in 2001. Dal 2002 al 2006 ha affiancato il suo futuro marito Amadeus nel programma L'eredità in onda su Rai 1, sempre nel ruolo di ballerina e valletta. È stata ospite in diverse trasmissioni, come I raccomandati condotto da Carlo Conti e La grande notte del lunedì sera condotto da Simona Ventura. Nel 2006 ha seguito il compagno Amadeus ed è passata in Mediaset, affiancandolo nel quiz Un Controcento, trasmesso nella fascia preserale di Canale 5. In questi anni ha proseguito gli studi di danza, aprendo anche diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl. Nel 2012 partecipa a una puntata di Camera Café su Italia 1. Nel 2015-2016 torna in televisione, entrando a far parte del Minimondo di Avanti Un Altro, su Canale 5 nel ruolo di Giovanna, la moglie di Amadeus. Infatti al momento si sta godendo a pieno l'estate, postando spesso sui social degli scatti che la ritrabbono in momenti in cui sta facendo il pieno di energia. Ma ciò che ha attirato l'attenzione è quello scatto reso pubblico nelle ultime ore, una foto che è stata particolarmente apprezzata proprio per via della bellezza che è riuscita a mettere in mostra. La moglie di Amadeus ha voluto quindi mostrarsi in costume, mentre prende il sole sdraiata su un prato verde nei pressi di una bellissima piscina. Molto probabilmente in questo scatto è stata fotografata. Mentre era nella zona esterna della struttura che ha scelto per queste vacanze è stata questa l'occasione perfetta per condividere con tutti i suoi followers una parte del suo. Momento di relax. In questa foto Giovanna Civitillo ha scelto di indossare un bikini rosso a fascia e con delle fantasie arancioni. Appena ha postato l'immagine, molti sono coloro che hanno voluto farle i complimenti, con un semplice like altri invece che hanno voluto postare anche un commento. Alcuni giorni fa Giovanna Civitillo aveva pubblicato delle foto direttamente dalla Sardegna luogo in cui ha sfoggiato nel look molto semplice indossando un pantalone giallo e una maglia ricamata su cui c'erano dei fiori colorati. Insomma, ogni qualvolta la moglie di Amadeus condivide un suo outfit sui social. La reazione dei fa non può che essere sorprendente.